RINNOVATO L'UFFICIO DI PRESIDENZA Il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione di revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. In apertura della seduta pomeridiana ha ricordato le donne vittime di violenza, la cui giornata commemorativa si celebra domenica 25 novembre e ha approvato in materia un ordine del giorno presentato da Giuliana Manica, presidente della consulta delle elette. CORECOM UDIENZE DI SECONDO GRADO Per la prima volta il 20 novembre il CORECOM Piemonte ha risolto gratuitamente una controversia tra un utente di Torino e una compagnia telefonica che in precedenza non avevano raggiunto una conciliazione. Il gestore ha stornato gli importi delle fatture contestate e pagato 100 euro di indennizzo. Con le nuove deleghe ricevute dalla Gcom il CORECOM può infatti definire le controversie in seconda istanza ed evitare alle parti il ricorso al tribunale o all'autority. CONVEGNO BENESSERE EQUO SOSTENIBILLE Palazzo Lascaris ha ospitato il convegno di presentazione del progetto BES, BENESSERE EQUO e SOSTENIBILLE. La ricerca, realizzata a livello nazionale con un anno di lavoro da CNEL, ISTAT e per il Piemonte dalla consulta femminile, si inserisce nel dibattito internazionale sul superamento del PIL. Il progetto è basato sulla convinzione che i parametri con cui valutare il benessere della società non debbano essere solo di carattere economico ma anche sociale e ambientale. TUTEILA DEL PATRIMONIO ARTISTICO Firmato a Palazzo Lascaris il protocollo d'intesa per il restauro di opere d'arte presenti in Piemonte, tra la direzione regionale del Ministero dei Beni Culturali, direttore Mario Turetta, e il Consiglio regionale, presidente Valerio Cattaneo. L'intesa prevede, per il primo anno, il restauro di due dipinti settecenteschi di Palazzo Reale e l'affidamento incomodato d'uso al Consiglio regionale di due opere che saranno collocate negli uffici di rappresentanza di Palazzo Lascaris. SOS Animali in Pericolo Nell'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale a Torino è esposta la mostra fumetti SOS Animali in Pericolo. Costruiamo una nuova arca. Curato dall'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, l'allestimento si propone di presentare le attività di tutela e cura degli animali, soprattutto ai più giovani. La mostra è visitabile fino al 12 dicembre, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!